Oggi siamo in visita a Toledo, l'antica capitale di Spagna. Oggi siamo in visita a Toledo, l'antica capitale di Spagna. Oggi siamo in visita a Toledo, l'antica capitale di Spagna. Il nostro viaggio a Madrid si conclude qui. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale. Adios! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS